Seggi aperti oggi fino alle ore 23 sia per le elezioni amministrative che per i referendum sulla giustizia. Sono 971 i comuni italiani, 49 dei quali abruzzesi interessati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. All'Aquila, Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro, che sono i 5 comuni abruzzesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si vota con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e l'eventuale ballottaggio è previsto per il 26 giugno, qualora nessuno dei candidati a sindaco abbia superato il 50% più uno dei consensi. In tutti i comuni, invece, è possibile votare per il referendum sulla giustizia. I quesiti referendari sono 5 che riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Consiglio Superiore della Magistratura e le valutazioni dei magistrati. Lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura dei seggi, mentre per le comunali lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio di domani lunedì 13 giugno. È obbligatorio indossare le mascherine, come in ogni tornata elettorale, che ha smarrito la propria tessera oppure ha completato lo spazio dei timbri, può richiederne una nuova negli uffici comunali. In provincia dell'Aquila si vota in 17 comuni, 23 in quella di Chieti, in 5 comuni della provincia di Pescara e in 4 di quella di Teramo. L'elenco completo con tutti i candidati è sul sito internet www.reteotto.it. Domani, a partire dalle ore 13.30, potrete seguire in diretta su Reteotto la maratona elettorale condotta dal direttore Carmine Perantuono e realizzata in sinergia con Il Quotidiano Il Centro. Tutti i risultati saranno forniti in tempo reale. Potrete seguire i collegamenti con i comitati elettorali e con le redazioni del centro. Nel salotto televisivo allestito a Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale all'Aquila, il direttore Perantuono, il giornalista del centro Giustino Paris e tanti ospiti commenteranno tutti i dati che arriveranno dai comuni interessati al voto sia in Abruzzo che nel resto della penisola.